...eventi, è quella che organizza i nostri, il mio no, di sicuro, i vostri, i nostri. E' anche il suo ormai. L'ho già dato, ho già dato. Quello che potrebbe organizzare i vostri matrimoni, anzi bene che li organizzi, però una domanda mi sorge spontanea, ma quanti camerieri ci vogliono? Perché noi, il nostro operatore qua, il nostro, deve sposarsi. Ah che bene. Ha fatto già la prefesta, quindi stia sotto. Siamo qua. Beh ecco, è la domanda che mi fanno più spesso. Quanti camerieri? Quanti camerieri? E allora, indicativamente di solito dei fornitori danno come indicazione circa 10-12 camerieri per, un cameriere scusate, per ogni 10-12 persone. E quindi da lì si fa il calcolo in base al numero degli invitati. Però io mi sento di dire che questo non deve essere preso come numero assoluto, perché poi dipende molto dalla preparazione del cameriere stesso. Brava. Quindi non deve essere un elemento che porta a scegliere un catering, un ristorante piuttosto che un altro, perché la valutazione va fatta e ovviamente lo sai solo in questo caso se lo provi o viene suggerito da chi come me lo conosce e sai ovviamente che tipo di personale utilizza. Ma chi prova il menù però? Beh ecco questo... Ai miei tempi era sulla carta, no? No, 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 ecco assolutamente questo no. Il menù va provato e testato. Quindi una cena? Va fatta una cena che solitamente come funziona? Io di solito consiglio innanzitutto di andare a mangiare dal catering piuttosto che dal ristorante, fare una cena normalissima, questo ti permette di testare la cucina. Cioè se io ho il catering, ordino il catering, cioè il catering mi dà... No, generalmente un po' tutti i catering hanno un ristorante. Ah ecco, brava. Non ho un appoggio cucina. Quindi quella sera mangerò quello che verrà proposto durante il matrimonio. No, no, in questo caso io vado a Monte, io dico a questo punto io non so, anche perché se vado a fare la prova a dicembre, a dicembre trovo delle pietanze che poi in estate no. Quindi io suggerisco questa cosa, vai nel ristorante, va o dal catering o chi sia, tu assaggia la cucina come se facesse una cena normalissima, quindi da lì ti permette di vedere la quantità, il cibo, il servizio, dopodiché ti piace il catering, prendi tutti gli accordi del caso, la prova vera del menù solitamente va fatta un mese prima dal matrimonio, che hai il prodotto fresco di stagione e lo vai a fare ovviamente sul menù che poi sarà quello del tuo matrimonio. Un'ultima domanda velocissima, il catering parla italiano, me lo so scritto, perché sai? Beh, allora, di solito c'è sempre un responsabile di questo catering, ultimamente ci sono anche matrimoni misti. Certo, ci sono matrimoni misti e soprattutto spesso ci si avvale anche di personale straniero che se è preparato per me comunque è efficiente quanto un italiano, quindi da sfatare a volte è anche meglio l'italiano. Ecco, da sfatare il caso che non questo catering lavora con del personale, assolutamente no, perché io ho visto della gente non italiana lavorare benissimo. No, ecco, l'importante è che il personale sia perlomeno preparato ad eventuali domande da parte degli ospiti, scusi, ha burro, non ha burro, che piatto c'è, che sappia dare un minimo di queste risposte. Sai che ci sono molte persone che mi chiedono, ma Valentina come posso? Dico, andate sul suo sito, Eventi e Eventi, e lì potete chiedere e comunque avere ulteriori informazioni. Grazie a Valentina Malacar, Eventi Wedding Design. Grazie a tutti.